Il nostro Roger! Sì, cosa? Il nostro Roger! Il nostro Roger! Il nostro Roger! Vai! Il nostro Roger! Salve a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video Come potete vedere qui c'è Roger Bella! Ed oggi siamo su un nuovissimo video mai fatto fino ad oggi Siamo su una Whisper Challenge Ecco ragazzi le nostre amatissime cuffie E per chi non lo dovesse sapere La Whisper Challenge ve la spiegherà il nostro Roger Allora praticamente la Whisper Challenge È conosciuta come la Challenge della Mustica ragazzi Giusto Praticamente io ho Nutella Ci dobbiamo mettere delle cuffie Sì E praticamente lui deve Lui Cioè quello che non ha le cuffie Dovrà formulare una affermazione Una frase E che io con le cuffie così Così vedete Dovrei Devo intuire la frase Però una cosa importantissima Con le cuffie ragazzi Con la musica a tutto volume Bestiale Stiamo vedendo Che cos'è Quelle di Martin Garrix Quelle di Martin Garrix Altissimo volume Ora Poi vi faccio sentire Allora iniziamo Iniziamo con le cuffie Sì Intanto una cosa Qui c'è anche Davidino Che lasciava la porta aperta Perché andava un attimo in bagno Poi andava in bagno Poi andava in bagno Poi andava in bagno Poi andava in bagno Ok inizio Oddio Oddio Allora si inizia Un attimo dal capo Metti la musica un attimo dal capo Roger Andiamo One Go Ieri Oh L'altro ieri L'altro ieri L'altro ieri Il nostro Roger Il nostro Roger Nostro di tutti Il nostro Roger Io il nostro Il nostro Roger Roger Il nostro Roger Il nostro Roger Rosso cosa Vai Il nostro Roger Io il nostro Roger Non è Allora Rincio dal capo l'altro ieri pomeriggio l'altro ieri pomeriggio il nostro roger il nostro roger siccome aveva moltissima sete siccome aveva moltissima sete aveva sete moltissima sete tantissima sete moltissima sete è andato al bar era andato al bagno è andato al bar era andato è andato al bar al bar e si è bevuto e si è bevuto un bicchiere di coca cola di coca cola ok ragazzi 1 a 0 per il nostro roger finisce ok ragazzi sentite quant'altra musica si attenzione si sente ragazzi non so se sentite avvicino ancora di più perfetto allora andrà roger si nutella con le cuffie rimettiamo la musica rimettiamo la musica qui dove è entrato anche davide ecco il nostro davidino qui dietro ovazione per lui ragazzi ok blocchiamo ok ok andiamo andiamo si parte per di voltezza via ok mi senti forte e chiaro sto pronto chiarissimo pronto chiarissimo allora vai pronto allora sentite raga allora vado vai la musica che stiamo appena ascoltando panza la musica che stiamo appena ascoltando la musica stiamo appena ascoltando eddie si intitola eddie eddie dimitrix martin carrix va bene va bene non sapevo come dire la musica che stiamo appena ascoltando è la musica che stiamo appena ascoltando eddie eddie martin carrix martin carrix un attimo ragazzi ho dovuto leggere il nome perché non lo sapevo infatti prima ho detto un nome a cazzo eh niente vado avanti eh la musica che stiamo appena ascoltando è di martin carrix tratta è tratta l'altra tratta 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 da da youtube youtube converter converter cioè sono cioè 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 che lo abbiamo trovato che lo abbiamo trovato su google google oddio ce l'abbiamo fatta una piata minchia one go ok rimettiamo a 38 secondi oddio madre andiamo uno pari si avrà un altro round si ok a rogera mettere le cuffie un saluto al nostro davidino sta lì bello 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 oh vai ok ora freddo la settimana prossima la settimana prossima la settimana prossima la settimana scorsa prossima 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 roger roger vedo con questa maglia roger è fermo con la maglia roger roger si andrà a comprare si andrà a comprare si andrà a comprare si andrà a comprare a comprare one go una bellissima bici una bruttissima bellissima bruttissima bellissima 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 bici bici colorata colorata da un negozio da un negozio dal negozio che vende infatti che vende che vende che vende che vende automobili ripeti dal capo ripeti dal capo repeat please again repeat please again again di nuovo ah di nuovo ripeti di nuovo ah allora la settimana prossima il roger roger si andrà a comprare una nuova bicicletta e colorata e colorata e colorata che vende automobili che vende automobili di nuovo che vende automobili che vende automobili basta e basta finish finish time oh cazzo ha freddo oddio ragazzi ma sentite la musica c'è veramente un disastro boom ok vai ancora un round ancora un round e finirà qui siamo a 8 minuti di registrazione va bene ragazzi e quale andrà sì ok dobbiamo rimettere a capo giusto da sempre da sempre o di meno vado si parte via con i rutti ahahah faccio un altro rutto via si parte Un altro Via Un altro Freud Un altro Lag Un altro Vado Vai vai Parti Ah mi chiedo Parto con tutti Parti tu vai Ok allora Questa sedia Questa sera Questa sedia Noi Questa Questa sedia Questa scalinata Questa sedia Questa sedia C'è se è merda Questa sedia Questa sedia È fatta Avrà È fatta È fatta Di Go È fatta Di Di Plastica Plastica Che è stata Colorata Che è stata Che è stata Che è stata Riciclata Riciclata Da 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 Un cinese Un giapponese Un cinese Un cinese Un cinese Un cinese Che sta Che sta Qua sotto Qui sotto Sì Qui sotto Sì Però immagina Di la gente Che ti sente Ripeto al capo No ma io dico Immagina Di tipo Ok Ripeto al capo Questa sedia Io ti dico Immagina di quella persona Che ti sente Sì si sente Eh ma quella persona Ti sente Che tu strilli Eh Che tu strilli Non strilla Non strilla Ok Ok ripeto Ripeto al capo Vai Allora questa sedia È stata Riciclata Da un cinese Che sta Là sotto Che sta Qui sotto Qui sotto Sì ragazzi È sbagliato Ok Non è riciclata È riciclata Eh vabbè Vabbè No pure Ripeto al incetto Riciclata Ragazzi Se volete Un'altra challenge Se questo video Arriva a 10 like Cazzo Se questo video Arriva a 10 like Ragazzi La challenge La decideremo noi Giusto Ma se arriva Tipo A 15 16 17 18 20 15 20 like Dai Faremo una challenge Che ci consiglierete voi Challenge su agar Ice baguette Challenge su agar Su fifa Su Quello che cazzo Vi fare Vari challenge Ok ragazzi Ritorniamo Ecco 3 2 1 Go Ecco ragazzi La nostra musica Sì è questa È questa Di Dimitri Vegas Matrix Galix Ok ragazzi Per questo Banda le cange Per questo episodio È tutto Un salutare Dall'astroger Bella